Ciao a tutti e bentornati con un'altra puntata di Care Mechanics Simulator Vediamo un attimo, eravamo arrivati ad un lavoro relativamente complesso, sono ricordo male Anzi no, era una cazzatona perché era il cambio dell'olio di un Audi Eeeh, vediamo un attimo Ah, ecco, ecco, no, questo qua è sì il lavoro complesso, questo qua sì Il dato della vettura, oh cavolo, ho comprato questa macchina da un amico che aveva bisogno di soldi in fretta Mi ha assicurato che la macchina funziona Ma tira stranamente verso destra e poi c'è questo strano odore come di funghi Ok Allora, alziamola sul ponte, questo indubbiamente E vediamo di sventrarla come una papera Una paperella Eeeh, allora, tira verso destra, quindi sicuramente c'è la scatola dello sterzo che ha qualcosa che non quaglia Eeeh 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 Mamma mia Ok Are we ready? Madonna santa, ma sono queste qua le prestazioni di quest'auto Boh Il resto delle sospensioni, vediamo dove è la roba per di buche Qua Ehi la, o il testo su due ruote niente, quello non era compreso Vabbè Vabbè Oh 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 Ok Eeeh 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 Il testo di freerli è un po' del cazzo, comunque va bene dai, non ha molto senso Anche quello delle sospensioni in realtà avrebbero dovuto mettere un limite di velocità secondo me, però vabbè dai Ok Cazzo Tutto il servo qua mi ha esaminato con un test ride E io che ogni volta andavo lì e esaminevo manualmente quando bastava fare così Bene Eh ma perché non me li ha trovate, scusa Vabbè, eeeh Eeeh Ok Ai 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 Questa macchina è da buttare Vabbè smontiamo dai, smontiamo e poi vediamo From Ah Da Tipo Hai Grazie a tutti. No, no, abbiamo capito perché non mi abbia detto le condizioni di questo e dell'amortizzatore, per esempio. Comunque va bene. Questi bucoli qua saranno disintegrati, credo. 14%. Ah, ok. Parra, anti-rollio. Qualcosa la blocca. E noi andiamo di là. Allora. 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 Via tutto, via tutto. Ogni tanto fa qualche zoom strambo. 3%. Ehi, che cazzo, è disintegrata praticamente. Pure matura fa un po' schifo in realtà. Secondo me c'è qualcosa da cambiare. Fa un po' cacare. Ma ieri 10%. 55% no, vabbè, dai, non è neanche male quella lì in realtà. Eeeh, basta. Faccio un po' di roba, mmm, così cosa ha, diciamo. No, ma di roba proprio danneggiata, danneggiata, però. No, smontaggio interno. Allora. Questo, questo, questo. Questo. Eh, ma ne abbiamo trovato però di cose, eh. Eh, cavolo. Guardate quante robe che abbiamo trovato. Eh. Allora, però. Questi qua non ho idea di dove possono essere. O sono nel motore, perché sono tipo dei pezzi bonus quelli, in certo senso. È quello che ho capito io, eh, in queste puntate. Modalità di controllo. Niente che posso controllare io da qua. Praticamente niente. Tutto giallo. Accessibile dal vano motore. Eh, io dove sono, cazzo. Ah, da sotto la vettura. Ah. No. Esatto, io non volevo smontarla. Volevo solo verificarla. Non si può verificare quasi niente da qua. Qual vola farfalla? Quello sì, vediamo un attimo. Poi, 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 nient'altro. Può essere sembrato sul tracetto di prova. Ehi, l'ho fatto qui, ma tracetto di prova. Mica giusto. Alziamola un attimo e controlliamo anche marmette e cosciutto varie, allora, eh. L'ho fatto come tracetto di prova bastardone. Anche 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 anche, apprefarto che, Micera. Un attimo, qua. Appatu, qua. Penso, che, più... ... Devo esaminare qua forse Vediamo un attimo Uuuuh Distrutto quello lì C'è qualcosa che non guaglia vero? Anche questo? Vediamo se possiamo spostarci di qua Ecco Ah Ecco scoperto l'arcano mistero Abbiamo trovato altre due o tre parti incriminate Vediamo se sono tutte Ah sì Cioè no Ne ho trovato un bel po' ma ne mancano ancora due Ne mancano ancora due Eh secondo me escono gli ammortizzatori Però bisogna smontarli cazzo A meno che lascia le ventole anche alle radiatore Vediamo 55% 55% No non era quella Non era quella Probabilmente un cambio d'olio non gli farebbe male Lo scanner OBD quella Sono male le candele Le candele Le candele Vediamo un attimo Esaminiamo anche un po' di cosine qua Non è neanche messo male in realtà Non è neanche messo malaccio I cappelli sono questi eh Io li produco a lavoro Io questi qua li produco a lavoro Io questi qua li produco a lavoro Allora Io direi che qua Resto di posizione del carburante Ora basta L'albero a camme L'abbiamo visto Ok Cos'altro possiamo guardare Montiamo un po' di qua Un po' di là Per me c'è qualcosa che non va nel motore Perché è una mezza pippa Dopo non so Boh 55% No in realtà non è neanche male Pompa del servo sterzo No Adesso montiamo mica tutto sto coso qua No no Va bene così dai Montiamo un po' di cose qua dietro E dopo vedremo se Tiriamo fuori delle altre cose Secondo me sono gli ammortizzatori Poi non so Magari mi sbaglio eh Un po' di cose qua Grazie a tutti 55% Neanche tanto in realtà Neanche tanto Grazie a tutti Abbiamo trovato tutto Bene Allora vediamo un attimo Se riusciamo a rimontare un po' di cose Senza smontare Cioè senza andare a comprare 7 miliardi di cose là O quella nuova Perfetto Allungiamento del bla 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 Eccolo qua Ok Asse di trazione posteriore solido Asse di trazione posteriore solido Eccolo qua Prendiamo 6 In modo da fare 3 auto Nel caso che è tanto Anche se un sciamo con un po' di soldi Non è un problema Se la buttare bene o male Si usano sempre Ora c'è da un pezzo Nuovo di pallino Non è un pezzo 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 Vediamo se la troviamo qui Eccola qua Ecco Ok E anche questa parte Sistemata da campione Andiamo di qua Ok Questa macchina ritorna come nuova Ve lo dico io Dovremo rimontare anche mezzo motore dopo ma comunque dettagli Dettagli eh Manca un qualcosa qui dentro E poi ha le boccole giustamente Un'altra Un'altra bocca Qua Ok Bene 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 Ok bene adesso rimontiamo quello che ci manca qua è un po di tutto praticamente tutti i controlli a caso che ho fatto che non sono serviti a nulla anche se adesso controlliamo anche un attimo lo stato della vettura perché ecco pastiglie dei freni non le ho cambiate perché pinze dei freni aspettate un attimo dovrebbe essere stato minimo di 9 pezzi 100% boccola in gomma dovrebbe essere la boccola in gomma rovinata scusa ma porca vacca porca ciava poi le boccole in gomma dovrebbe essere rovinata scusa che glielo che mette tutte niente allora adesso le lascio tra i preferiti scusate un attimo via questo via questo 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 delle volte non è facilissimo purtroppo è uno con la fretta non porta mai troppi risultati a caso ricordatevelo e infatti 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 80 per cento ma dai e non l'hai voluta perché 100 per cento vuoi al massimo ti venisse del bene cazzo ma che cazzo ma non sono nuove queste qua è vero porca ciavacca ecco perché cazzo 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 ecco perché le sto mettendo quasi nuove ma lui le nuove le vuole proprio nuovissime allora via la boccola poi altre cose vuoi? i dischi anche vuoi nuovi male detto infamone guardate ho sbagliato io purtroppo comunque non ha molto senso certe cose eh e scusate un attimo no hai un disco al all'ottanta per cento 70 per cento e lo cambi fuori di testa ma te li regalano i soldi io non dico di cambiarlo ok quando siamo alla frutta perché sulla sicurezza non si scherza però vabbè insomma scelte loro che altro tanto lavoro per niente è colpa mia comunque che ho visto male è solo colpa mia 100 per cento dei pezzi cambiati per cui 80 per cento 100 per cento 100 per cento allora vediamo un attimo su stato delle vetture togliamo un po' di cose cambiate eh questo e basta ok allora prendiamo dei dischi dei freni a disco cioè no dei dischi dei freni voglio vedere ventilati ventilati che troppa scorta secondo me abbiamo fatto eh comunque 100 per cento va bene maledetto ecco va bene tutto nuovo che cliente pignolo che cliente pignolo e allora anche la pinza del freno immagino che tu la voglio buona vediamo un attimo vediamo un attimo pinza del freno eh sì pinza del freno nuova di pallina vabbè le prendiamo non c'è problema basta che tu paghi tiri fuori il cash pinza del freno eccola qua l'importante è che tiri fuori il cash per il resto gli faccio tutto quello che vuoi il cilindro della ganache vediamo ormai lo devo montare vediamo se anche questo qua guarda il cilindro della ganache pastiglie pinza pastiglie boccola il disco del freno no il cilindro della ganache non gli interessa bene così allora no scusate un attimo ah qua dietro non c'è più niente vero no ok colpa mia colpa mia colpa mia eccola qua una boccola nuova nuova di pallino nuova nuova ok ok Allora anche dietro sicuramente devo cambiare qualcosa Cazzo di cane Qui manca un qualcosa Via 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 Cosa è rimasto? Pastiglie dei freni, pinza dei freni, pastiglie dei freni Ah ok mi sa che è là infatti mi pare di aver visto Tutto qua E smontiamo anche qua porca caccia di quella pupazza Gli venisce del bene Basta sto blocco qua e basta allora Vieni il famone In teoria dovrò essere a posto adesso Guardiamo un attimo Pastiglie dei freni Eh Ma Lascia il nuovo di qua allora dove cazzo è Ah porcaccia Vabbè Non importa dai lì c'è poco lavoro per arrivare alla fine Si venisce del bene Dai mettiamo le pastigliette nuove Facciamo del 7% No va Vabbè vabbè dai Contento lui Chiamate perse Su chiamate perse Una cosa incredibile Questa macchina è perfetta Quanti pezzi ho cambiato forza Mamma mia Guardate Base della molla balestra Di qua Di qua Di qua Di qua Manca tutto E allora Sospensioni Montaggio di un pezzo Quella qua Tutti cochi Questa Maledetta infame Manca dell'altro Vediamo un attimo Ok Speriamo che l'ultima cosa che manchino siano qua E basta E basta Quante viti Mamma mia Mamma mia Cazzarola No Raffreddamento Faccio di un pezzo Eh no Eh no Eh no Bello Questa è mia Vieni questo Ok Sblocchata con puntabilità Vediamo un attimo Cosa possiamo fare Installer Muove parti 50% più velocemente Corri Eh c'è una 10% più velocemente di cosa Eh questo è buono Cazzo Questo è buono Questo è buono Cavolo Comprare i pezzi praticamente davanti l'auto Ma due volte Oh che bello Che bello Bene ragazzi Con questo novitante Ma che cazzo sto dicendo Con questa importante Novità Eh vedete che delle volte Mette insieme le cose Che ero parole nuove L'academia della Cusca Dovrebbe solo Prima mearmi Vabbè Con questa importante novità Chiudiamo il gameplay Grazie E alla prossima Grazie a tutti